Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni generali per la prima parte di maggio 2022, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre sono previsioni fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami. Vergine. Tendenze energetiche generali. Per la prima parte grazie. Il matto. Amici della vergine. Il matto è un arcano numero zero. Parla di quello che è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Per molte persone parla di avventure, parla di entusiasmo, parla anche di quello che è fare, il salto di fede e quindi magari buttarsi in qualche tipo di situazione o di relazione se vogliamo con quello che è una fiducia pura, una fiducia cieca. Parla di quello che è il bambino interiore e di conseguenza anche della fiducia un po' che hanno i bambini, no? Ok. Nuova vita. Ma che bello, amici della vergine. Qualcuno si sta trasformando, sta cambiando quello che è la propria realtà. Questa carta è il numero 39, magari per qualcuno ha un significato. Magari sono i vostri anni. E c'è un nuovo tipo di percorso. Questo non vuol dire che dobbiate magari cambiare lavoro o cambiare, magari sì, però non è detto. Può anche essere un nuovo ciclo di vita interiore. Andiamo a vedere con i tarocchi. Abbiamo un quattro di spade, un re di spade. Quindi con questo quattro di spade si parte da quello che è un periodo di rigenerazione, un periodo probabilmente di isolamento che è servito proprio a ricaricare le pile, che è servito proprio a darvi quel nuovo input, quella nuova energia che vi serviva per questo nuovo inizio che abbiamo visto qui. C'è poi anche un re di spade. Potrebbe essere una nuova persona che entra nella vostra vita o potrebbe essere la vostra energia che in questo momento è ben ben determinata. È come se aveste fatto un piano di azione, come se aveste molto chiaro da che parte dovete andare. Continuiamo poi con un asso di coppe. Al contrario. qui sento che c'è qualcuno che a livello emotivo probabilmente non, come vi posso dire, non c'è tutta questa voglia di iniziare. A livello emotivo vi parlo, eh? O probabilmente mi parlano di non si è innamorati. Quindi può essere che per qualcuno ci si possa rendere conto in questo periodo appunto che non si è innamorati della persona che sia di fianco. So che è una stesa generale, io vi dico quello che dicono le carte, poi voi cercate di applicarlo alla vostra situazione personale. Gli assi normalmente sono quello che è un nuovo inizio e essendo un asso di coppe è un inizio con amore fondamentalmente. È un inizio, la coppa è piena e essendo girato al contrario sento che è come se ci fosse un qualche cosa in questo tipo di nuova vita, in questo tipo di matto, diciamo così, che è un po' carente da un punto di vista dell'amore. Ecco, mettiamola così. Abbiamo poi un 10 di spade al contrario. C'è una sofferenza, qui un qualche tipo di ciclo, ma qui siamo in fase di chiusura perché abbiamo un 10 qui, abbiamo un matto qui, questo asso che comunque ancora non è dritto, quindi parliamo di una chiusura ma una reale, un reale nuovo inizio, ancora non c'è. Andiamo a vedere che altro. Ruota della fortuna al contrario, fante di spade al contrario, di nuovo la ruota della fortuna è un 10, quindi qui si parla di quello che è una fine ciclo che fondamentalmente ancora non si vede. C'è un cambio, perché abbiamo due dieci uno dietro all'altro, un asso girato al contrario, è un cambio che ancora non si fa. Probabilmente questa fase di guarigione e questa fase di struttura mentale deve proseguire ancora un pochettino per riuscire ad effettuare il cambio di cui si sta vedendo qui con in dieci di spade la ruota della fortuna al contrario. Abbiamo poi anche questo fante di spade al contrario sempre e qui potrebbe essere che manca quello che è una sorta di comunicazione e di fatti l'asso è anche al contrario. Andiamo poi a vedere nello specifico con i militari occhi di che cosa si parla. Terminiamo poi la stesa con un sei di spade. Quindi qui sento che si parla di un allontanamento, giustamente c'è una nuova vita, c'è la chiusura di un cerchio e l'inizio di un nuovo periodo e con i sei di spade ci dice che qualcuno qui si sta allontanando, si allontanerà insomma da una situazione, da una relazione, semplicemente da un'idea anche, da magari un qualche tipo di credenza limitante. C'è un qualche cosa da cui si prendono poi le distanze. Ok, andiamo a vedere nello specifico questo quattro di spade. È tenuto una carta da recupero e abbiamo un asso di spade. Vediamo che altro. Un asso di spade, la carta della forza, un quattro di pentacoli e un re di pentacoli. Ok. Allora, l'asso di spade è una carta di inizio, di nuovo. È una carta che serve a far chiarezza mentale e lo rivediamo qui nel re di spade. È una carta che serve per tagliare fondamentalmente quello che non serve più. E probabilmente molte persone si stanno prendendo questo quattro, questa fase diciamo del quattro di spade, proprio per fare chiarezza mentale, per prendere il coraggio due mani e fare quel tipo di scelta e fare quel tipo di taglio che serve. Abbiamo anche un re di pentacoli qui, quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che sia una persona, quello da cui vi dovete staccare. Ma essendo sia il quattro di denari, sia il re, appunto, carte inerente a quello che è una materialità, potrebbe anche fare riferimento al fatto che dobbiate staccarvi da un qualche tipo di casa, da un quel che... Mi parlano di di ricovero. Non so, magari se per qualcuno fa... Qualcuno risuona... È come se fosse una struttura... È una struttura bianca, con tante finestre... Mi parlano di animali anche. Ok, andiamo a vedere il re di spade per piacere, grazie. Abbiamo il 2 di pentacoli al contrario, quindi qui qualche cosa non riuscite più a gestirlo, e l'8 di pentacoli al contrario. Potrebbe essere che non riuscite più, non riusciate più a gestire un qualche tipo di situazione a livello pratico, a livello lavorativo, magari a livello quotidiano, e che quindi ci sia questa energia del re di spade proprio perché avete bisogno di diventare più strutturati, più organizzati, più... Anche un po' freddi. Probabilmente è per quello che c'è anche l'asso di coppa al contrario, perché avete bisogno di prendere distanza da una certa situazione e per fare quel tipo di lavoro lì bisogna non farsi magari troppo coinvolgere dalle emozioni. Fatemi vedere questo asso di... Abbiamo la carta della morte, quindi di nuovo carta di chiusura ciclo, carta di trasformazione, carta di rinascita e anche carta di tagli e la torre al contrario. C'è una realtà un qualche tipo di sicurezza che voi vorreste profondamente cambiare. Per qualcuno sento che questo re di spade fa riferimento a un dottore di lavoro burbero, diciamo, no? E credo che per molti si voglia cambiare questo tipo di realtà. Magari qualcuno lavora in un ricovero o in una struttura insomma dedicata al recupero della salute. Potrebbe anche essere una struttura di animali è dedicata magari un qualche clinica. Ok andiamo a vedere il 10 di spade però ecco qui con questa torre al contrario c'è un qualche tipo di sicurezza che non che non si lascia andare sì e anche qui con il 10 di spade spiegato dall'eremite dal 2 di coppe al contrario quello che sento fortemente è che dovete prendere la vostra strada cioè se il 2 di coppe al dritto è il fatto di di non avere associazioni, cioè scusate al dritto è il fatto di avere collaborazioni, unioni, compromessi, averlo al contrario proprio non avere legami, non avere compromessi e in più c'è l'eremita che parla delle persone indipendenti, delle persone solitarie. È come se ci fosse la necessità di fare un qualche tipo di percorso in solitaria senza colleghi, senza collaboratori, senza partner. Andiamo a vedere la ruota della fortuna al contrario. Allora abbiamo un 9 di coppe, un 3 di coppe e un asso di denari. Sì sento che qualcuno qui avrebbe voglia di questo nuovo inizio perché comunque c'è un asso di denari, avrebbe voglia di festeggiare quello che è il proprio sogno compiuto ma è come se non fosse ancora momento, è come se fosse ancora un po' troppo presto, però non vi preoccupate se avete la ruota della fortuna al contrario perché comunque con questo asso di denari si parla di quello che è un nuovo inizio, di quello che è un nuovo percorso. L'asso di denari molte volte parla anche di quello che è un dono, può essere un dono dal cielo, può essere semplicemente che qualcuno magari vi dia una mano. Lo sento molto come un dono dal cielo perché avete proprio la carta del 9 di coppe che è la carta del sogno compiuto, quindi andiamo a vedere questo. Ok, il fante di spade al contrario è spiegato dalla regina di bastoni e dalla carta del sole al contrario. Allora per qualcuno può essere che ci sia, perché anche qui comunque c'era la figura di un re e qui abbiamo una regina, sento che c'è una qualche tipo di presenza femminile, di influenza femminile o con una forte energia femminile che fondamentalmente vi impedisce se vogliamo di crescere a livello personale. Potrebbe fare riferimento alla madre perché qui abbiamo comunque anche il 6 di spade, 6 di spade molte volte fa riferimento ai problemi che si hanno in famiglia e che quindi si decide di lasciarsi indietro, no? Quindi voglio dire per qualcuno potrebbe proprio essere questa figura che c'è magari intorno a voi che vi impedisce di girare solo al contrario, quindi di esprimere la vostra essenza interiore ed è da lì il fante di spade al contrario che parla di quello che è il, come vi posso dire, quell'energia di controllo di cui parlavamo prima. Andiamo a vedere questo 6 di spade per piacere, grazie. 2 di spade, ok. Abbiamo un 2 di spade, un re di bastoni, qui c'era la regina e un cavaliere di coppa al contrario. Allora, per qualcuno, vedendole così, potrebbe essere che vi troviate davanti a un bivio, davanti a una scelta che potrebbe essere tra due persone diverse, quindi magari una un po' più spavalla, diciamo così, passionale e un'altra magari un po' meno aperta, se vogliamo. Potrebbero essere che qualcuno, perché mi parlano di famiglia, quindi qui potrebbe essere che qualcuno deve scegliere, diciamo così, quello che è la figura paterna, se andare incontro a quello che è la figura paterna o andare incontro a quello che è il partner, la partner. Oppure potrebbe semplicemente essere che c'è bisogno di prendere distanza da quelli che sono tutti i dubbi, sia a livello di potere personale, sia a livello emotivo, a livello, diciamo, emozionale. Guardate, vi sento in una fase di ripresa, è come se questa carta Nuova Vita mi fa pensare che vi state comunque qui preparando, state piazzando le armi, mi dicono, vi state preparando per andare verso quello che è la trasformazione, ma in solitaria. Se qui le cose probabilmente erano, diciamo, tra virgolette dipendenti da altre persone, qui sento che troverete la vostra strada più da soli, che è forse un po' quello che dovreste, potreste fare, però in realtà c'è qualche insicurezza, mi vorrebbe da dire, ma verso la fine del periodo sento che prendete distanza da quelle che sono le insicurezze piuttosto che le persone, gli atteggiamenti o comunque le situazioni che non vi permettevano di esprimervi qui. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto ne approfitto per comunicarvi che ho aperto l'agenda di maggio per procedere con le letture telefoniche, le consulenze telefoniche. Quindi per chi fosse interessato potete contattarmi sempre via mail e vi spiego poi come funziona. È una cosa nuova anche per me, nel senso che ho preso da poco il numero di telefono e quindi proviamo insieme e vediamo come va con le consulenze telefoniche, ok? Bene. Conscio e inconscio per gli amici della Vergine, ok. Armonia. Lasciarsi andare e la pazienza. Wow. Allora, è un dieci di coppe, ok? È come se, questo è il conscio, la parte conscia, questa carta, armonia, io la sento molto collegata a quello che è la guarigione, il quattro di spade, no? Che parlavamo prima, il fatto di prendersi un periodo, ed è quello che, diciamo, suggerisce questa carta, di mettere in armonia quello che è il cuore con quello che è la mente. Quindi cercare di ritrovare il proprio equilibrio, la propria salute, se vogliamo, psicofisica. L'inconscio, sette di denari. Questa carta parla di quello che è il saper attendere con un atteggiamento comunque positivo. Probabilmente, come vi dicevo prima, qui state un po' armando il piano e dovete comunque pazientemente cercare di rimanere positivi durante tutto il percorso, ok? Perché è vero che qui la ruota della fortuna è a rovescio, quindi probabilmente non c'è in questo periodo ancora questo cambio di cui parla, ma si inizia a intravedere qualche cosa, perché comunque avete un asso di denari. Questo è un otto di coppe, quindi lasciarsi andare e lasciarsi anche un po' guidare, se vogliamo, da quello che è il proprio istinto, da quello che è la propria verità, la propria voce interiore, ok? Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine, io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, condividere e commentare. Abbondanza, wow! Allora preparati per l'abbondanza che sta per arrivare. Rilascia i tuoi blocchi mentali che puoi avere. C'è abbastanza abbondanza per tutti. Quindi l'universo vi dice che c'è abbastanza abbondanza per tutti, c'è spazio per tutti, sia che sia nel mondo del lavoro, sia che sia nel mondo, non so, della crescita. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!